Proseguiamo, c'è una cosetta che vorrei leggere perché la trovo interessante e divertente, è un trafiletto di un articolo apparso sulla Repubblica del 1 febbraio 2005, è un viro leggo perché è qualcosa di divertente, sapete che purtroppo ormai siamo abituati a sentire di madonnine che piangono sangue, di madonnine che soffrono, che versano lacrime, come mai una madonnina che rida. E allora c'è un autore che ha scritto un articoletto che si chiama Le risate della Madonnina e fa un attimino un percorso di quello che sta avvenendo. Il Davide di Firenze. L'ondata di suggestione ha investito simulacri, idoli e statuetti in molte altre parti d'Italia. Una nota duchessa VIP televisiva che ha voluto evidentemente l'animato, avendo avvenuto l'esclusiva a un giornale, ha assicurato che Barbie di sua figlia ha pianto diversi liti di Chanel numero 5. Ma davvero straordinario è ciò che è successo a Firenze, in piazza di Signoria. Il Davide Donatello, famoso per la sua bellezza virile ma casta, ha avuto una spaventosa erezione. Dove c'era il pistolino marmoreo, ora hanno trovato all'oggio ben sette piccioni in fila. Si era pensato a uno scherzo, ma sembra che l'aumento di volume sia reale e pesabile. La solita commissione di grandi opere, formata da tre ingegneri cugini di Lunardi, un andrologo e una pornostar, stanno esaminando il caso la piazza è transennata. Questa è la risposta divertente per quanto riguarda le apparizioni, le madonnille che piangono, che soffrono e che fanno altre cose. Voglio invece non sfruttare gli ultimi minuti di trasmissione per ricordare due cose. Voi sapete che nei prossimi mesi si andrà incontro al referendum sulla fecondazione assistita, cioè sulla procreazione assistita. Sappiamo che il referendum è un evento molto importante. È un qualcosa che ha a che fare con i singoli, con i diritti delle persone, con i diritti del popolo e di stabilire un qualcosa che li possa utilizzare e servire. Stiamo assistendo che tutti quanti gli schieramenti politici dall'estrema destra all'estrema sinistra sottacciano un po' a questo referendum. Abbiamo visto che i cattolici e i cristiani si sono schierati, chiaramente, per impedire che questa legge cattiva e pessima legge venga abrogata. E voglio ricordarvi appunto come si sono schierati i monoteisti. Leggo dal Corriere della Sera di martedì 1 febbraio 2005. Chiesa, Islam ed ebrei, no a tecniche artificiali. Procreazione. E questo è proprio un articolo che hanno fatto appunto sul discorso della procreazione. Perché appunto il Corriere della Sera gli va riconosciuto una capacità, un'intelligenza, una bravura di essere schierato chiaramente, pubblicamente, per l'abrogazione di questa legge sulla legge sottoconazione assistita. Bene, e loro dicono, qua ci troviamo, loro dicono, ma chi è che vuole questa legge sulla febbraio e chi è che la vuole mantenere? E facendo delle ricerche, sentendo i vari esponenti religiosi, il Corriere della Sera può tranquillamente titolare Chiesa, Islam ed ebrei, no a tecniche artificiali. Ma in realtà perché si deve rinunciare a un qualcosa che può risolvere i problemi e le sofferenze? Perché non si può ricercare per alleviare le sfortune di chi soffre malattie veramente gravi, tragiche, di una sofferenza enorme? E perché si deve impedire a una coppia che desidera ai figli di non ricorrere a tutte le tecniche per pur di disporre dei figli? E perché si deve imporre alle donne di essere violentate con l'obbligo di inserire in utero tutti gli ovuli, anche gli ovuli fecondati che sono anche malattie per poi ricorrere all'aborto? Quando poi sappiamo che i cattolici hanno detto che se vinceremo questo referendum sicuramente andremo a toccare la legge anche sull'aborto? Perché tutti i monoteisti vogliono imporre la sofferenza, degli desideri, degli problemi, delle sofferenze delle persone non importa assolutamente niente. E difatti chiaramente si andranno a imporre leggi sempre più violente, sempre più impositive, sempre più contro la salute di tutti se il monoteismo avrà la possibilità di vincere il prossimo referendum. Perciò io invito tutti gli ascoltatori di andare a votare il referendum sulla fecondazione assistita e invito anche gli ascoltatori di impegnarsi e di far votare sì per abrogare questa legge così assurda e così violenta. Ricordo che questa sarà una tematica che andando avanti nessuno o ben pochi avranno interesse a parlarne, a discutere, a enunciarla, ad aggiungere informazioni. Si cercherà sicuramente di far sparire questa notizia. Per fortuna alcuni quotidiani, molte volte oreoli come Corriere della Sera, faranno qualcosa per poi cercare di arginare questo, però i quotidiani hanno la possibilità di avere lettori. Sappiamo che la Chiesa Cattolica, che rappresenta il messaggio di Cristo, il messaggio della violenza dell'imposizione, userà tutti i sistemi emotivi o di controllo del territorio, del paese tramite oratori, chiese, parrocchie. Già alcuni sacerdoti hanno fatto i comizi in Chiesa per orientare il gareggio. E io vi dico, domandatevi perché vogliono impedire a delle persone che per libera scelta ricorrono alla fecondazione assistita. Come sempre l'aborto, la fecondazione assistita non è un obbligo di legge, ma è una facoltà, un diritto che viene riconosciuto a qualcuno di cui ne ha bisogno. Un cattolico non è obbligato a ricorrere all'aborto, un cattolico non è obbligato a ricorrere alla fecondazione assistita. Però se una coppia, libera scelta, vuole ricorrere alla fecondazione assistita per avere dei figli, perché questo gli deve essere vietato, perché gli deve essere impedito, perché si devono creare ostacoli, perché la si deve far soffrire? Perché poi ricordiamolo, sarebbe giusto che andassero a informarsi, che anche le tecniche della fecondazione assistita non è che sono tecniche in dolore, non è che sul corpo della donna non succeda niente, perché si deve ricorrere a una stimolazione farmaceutica. E non è certo una cosa facile e comoda per il corpo della donna subire anche questo. Di tutto questo ai monotesti, come sempre, non interessa assolutamente niente. Perciò io vi voglio ricordare questo referendum sulla fecondazione assistita. Andate a votare e votate sia l'abrogazione di questa assurda e violenta rense. E voglio dedicare gli ultimi minuti a un altro fatto. Io voglio ricordare un personaggio poco conosciuto, che però a mio avviso è meritevole. Ed è Luciano Foix. Luciano Foix è uno dei fondatori della Delphi, la casa editrice meritevole perché ha cambiato radicalmente il panorama culturale in Italia. E cosa è successo? Purtroppo è venuto a mancare. Luciano Foix era una persona che aveva lavorato all'Einaudi di Torino. Ruppe col Torino Einaudi quando Einaudi cercò di impedire la pubblicazione di Friedrich Nietzsche in Italia. Luciano Foix, assieme a Roberto Calasso, altra persona meritevole e di alta considerazione, si sono impegnati in opere titaniche come la pubblicazione di tutti gli scritti di Nietzsche. Oltre che a Nietzsche hanno pubblicato un'infinita di testi. Il catalogo della Delphi, né una dimostrazione di cosa sono riusciti a fare. E perché voglio ricordare particolarmente Luciano Foix morto alla fine di gennaio? Perché un settimanale chiamato culturale il Domenicale, sull'ultimo numero, il Domenicale è fondato e direttato da Macello Dell'Utri per averle coordinate, ha pubblicato due intere pagine contro le tradizioni a Delphi. Addirittura sfruttando testi, un certo Maurizio Blondet, vice direttore dell'Avenire, il giornale della CEI, ha scritto un libretto che si chiama Gli Adelphi della dissoluzione, in cui sostiene addirittura che la Delphi farebbe parte del progetto dell'Avvento dell'Anticristo. A parte appunto considerazioni così irrisibili, così insignificanti, è il classico sistema di creare il mostro dell'inquisizione, di demonizzare l'avversario. In realtà noi siamo debitori a Luciano Foix, come a Roberto Calasso, di un'enormità di cose. Siamo debitori di quel catalogo che è il libro dell'edizione a Delphi. E pensate appunto che loro sono partiti da una posizione di comodità, perché quando hanno rotto quelli di Naudi, l'Inaudi era un colosso in Italia. L'hanno fatto perché? Perché spinti da un desiderio culturale, da un desiderio di conoscenza, di far conoscere le cose. D'altronde c'è da domandarsi cosa c'è di male a far conoscere un autore fondamentale per la nostra cultura, come Friedrich Nietzsche. Ma perché Friedrich Nietzsche era considerato così male dalla cultura ufficiale? Perché demoliva il cristianesimo? Avevamo ricordato all'inizio quell'articolo di Shalmarashti che diceva chiaramente. Cosa diceva Nietzsche? Nietzsche diceva che il cristianesimo è la sola grande maledizione, è la sola macchia immortale dell'umanità. E logicamente troviamo un autore che afferma questo e che oltre ad affermare dimostra e demolisce il monoteismo è un autore fastidioso, pericoloso e che cerca di tacere. Perciò io ricordo sempre che tutte le persone, come già appunto da Luciano Foa che ci ha lasciato, hanno dato un contributo enorme perché non hanno portato una verità, non hanno importato una fede, hanno portato degli strumenti culturali che hanno dato la possibilità a milioni di persone di potenziare la loro capacità, i loro strumenti per poter comprendere il mondo e per farsi una cultura. Di conseguenza state bene attenti quando qualcuno cerca di demonizzare gli avversari, quando cerca di andarli contro con simili tematiche. Benissimo, è arrivato la fine della trasmissione, sono le 16.30 e io vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 20 avremo un intervento di Laura Rangoni, autrice del libro Il Paganesimo, pubblicato da Senia. Do appuntamento agli ascoltatori appunto questa sera dalle 19 alle 20 con la nostra amica Laura Rangoni. Un ciao a tutti.